buona ragazzi qui non ci speriamo qui a un nuovo video allora fantacalcio ne parlerò in un video domani domani che lavoro di meno posso pensare a fantacalcio vi dico solo che ho fatto un po' caccare in tre fantacalcio forse uno l'ho vinta uno pagata persa se non mi sbaglio la più importante era pagata però ne parleremo in un altro video precedente prossimo oggi parliamo di una cosa molto importante allora io ho ordinato la maglia dall'inter che deve arrivare entro questo mese ma siamo quindi l'ho ordinato il 15 di agosto e siamo al 19 di settembre quindi già quasi un mese che aspetto sta maglia però torniamo il sabato domani che è festivo torniamo il 15 che era che era festivo quindi facciamo che l'ho ordinata 16 sono quasi un mese che aspetto sta maglia non è ancora arrivata mi sto un po' preoccupando però sarà un po' di sicuro di posta italiana sicuro perché solo posta italiana fa perdere tempo così però vedremo adesso cosa devo fare sì sono arrivato se voi dite eh sei scemmo non lo fai apposta se sei scemmo non lo fai apposta no no faccio apposta veramente vabbè allora cosa devo dirvi allora se mi ho seguito su instagram avete siete accorti che ho trovato un altro lavoro ebbene sì ragazzi io adesso lavoro in un altro lavoro il lavoro di prima l'ho lasciato perché i miei occhi come ho detto già 3000 volte non ce la facevano a sopportare il calore di quel lavoro calore vuol dire caldo sopravamo ai 100 gradi vabbè facevo il tuo corpo facevo eh era la prima volta però i miei occhi con le lenti tesalenti non ce la facevo e ho dovuto lasciare dovuto perché era meglio lasciare che lì dovrebbe che un giorno ho trovato lavoro e oggi è già il mio secondo giorno che lavoro da poco quando devo lavorare perché faccio faccio lo spezzato oggi e posso dire meglio fare 8 6 o tra 8 6 ore al giorno che fare sei o quattro ore al giorno a mole di caldo voi direte tu sei stupido se passo sei o quattro ore è molto meglio fai meno fatica poi ti sono stato scadato dei panini si scadato dei panini però sai sono tanti tipi di carne tantissimi tipi di carne eh perché quello che fai tu scafalista eh devi ricordare tutte le posizioni si ma non c'ho il caldo che mi da almeno ho il tempo quindi so mettere a posto quindi mi piace questo lavoro l'ho fatto 6 mesi fa col Gulliver e adesso sono di nuovo qua con l'altra azienda che risparmio casa e niente io lavoro mi piace e per quelli che devo sempre commentare negativo non mi interessa tanto i vostri commenti mi entrono qua e mi escono qua e niente qui con Tomy che deve sempre dire la sua da Jacky Splay al prossimo video bella ragazzi ciao di Tomy ciao Tomy diciamo Tomy Tomy via ciao al prossimo video al prossimo video bella ciao 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 ciao